Prendono le difese dei loro alunni e delle famiglie, le due dirigenti del liceo classico scientifico di Nocera Inferiore chiedono al sindaco Malio Torquato che interloquisca con il prefetto per farsi portavoce delle istanze degli studenti che hanno annunciato iniziative di protesta a partire da domani per manifestare la contrarietà a decisioni calate dall'alto che non collimano con lo studio e le esigenze quotidiane degli studenti. In particolare è sull'orario scaglionato previsto dal piano della prefettura di Salerno che si battono gli studenti delle scuole superiori nocerine a scuola sì ma non così. Ed è per questo che le dirigenti del GB Vico e del liceo sensale Lucia Federico e del Vira D'Ambrosio hanno passato la palla al primo cittadino nocerino affinché si faccia portavoce delle richieste che vengono dalle due scuole superiori particolarmente dell'esigenza di ridurre da due ad un'ora la distanza temporale tra le fasce orarie di scaglionamento delle entrate e conseguentemente delle uscite. Le due presidi firmatari della missiva spiegano le motivazioni delle loro richieste frutto della condivisione della perplessità esposta dai rappresentanti di istituto degli alunni. Non si può negare scrivono che uno scaglionamento delle entrate e dunque delle uscite così strutturato comportino un pochi disagi a studenti, personale scolastico docente e non docente e alle famiglie. Gli studenti in particolar modo quelli frequentanti le classi quarta e quinta avranno meno tempo da dedicare allo studio a casa e alla vita personale già così compromessa dall'emergenza epidemiologica. Timi sottoposti al baglio dei dirigenti in un documento che gli studenti presentano ai dirigenti dei rispettivi istituti scolastici. Le presidi dei due licei cittadini fanno poi riferimento nella loro richiesta al sindaco ai problemi di gestione del personale, ai limiti per garantire vigilanza e sicurezza su un tempo scuola che si è dovuto allungare su più turni con questo tipo di organizzazione varata dalla prefettura. E ricordano invece che sia il GB Vico che il liceo scientifico sensale avevano sperimentato ad inizio anno scolastico, dunque a settembre e ottobre in tutte le loro sedi l'orario di ingresso, prima fascia ore 8, seconda fascia ore 9, che si era rivelata estremamente positiva in quanto non prevedeva neanche la riduzione del monte ore di lezione, evitando così assembramenti e acconsentendo un orario di uscita tale da garantire una regolare assunzione dei pasti e un adeguato studio di consolidamento a casa. Tanto più che la platea scolastica dei due istituti è composta principalmente da alunni residenti nel comune di Nociaro Inferiore che pertanto raggiunge gli edifici scolastici a piedi, in moto, in motociclo e in bicicletta. Il flusso dei ragazzi distribuito su una o due ore scongiura in egual misura dunque lo scaglionamento. Le due dirigenti hanno tenuto conto dello studio sottoposto loro dai rappresentanti dei due istituti sull'utilizzo dei mezzi pubblici per recarsi a scuola e secondo il quale solo un numero residuale degli alunni iscritti proviene da comuni limitrofi, non tutti collegati efficacemente da mezzi pubblici. Di questa percentuale meno della metà utilizza il trasporto pubblico. La restante dicono parte usa mezzi privati, individuali o collettivi. Per non considerare che la frequenza in presenza del solo 50% degli alunni riduce ancora della metà il numero di coloro che usano i mezzi pubblici. Ora la palla insomma passa al sindaco che domani ne farà partecipe il prefetto.